Salve a tutti da GTA Guidesita, oggi recenziamo una missione chiamata Serial Killer Se avete qualche missione da mandarmi, mandatemi il link così faccio la recensione E che dire, iniziamo subito Ok, la missione si chiama Serial Killer, come ho già detto Allora Per prima cosa ricordati che sei un Serial Killer Seconda cosa, adesso ti verrà assegnato un contatto, semplice Ecco, una volta ucciso ti verrà mostrato in basso il nome del prossimo contatto Ah, ok Ma è colpa, non l'avevo visto Facciamolo fuori subito Ok Rindigan, traditore Ah Ora dobbiamo uccidere uno che si chiama Rindigan Boom Oh, cazzo, non muore Oh, è morto Capo Bandabulls Spacciatore Eccolo laggiù Aspettate un attimo Ok, qua dovrei riuscire a prenderlo Benissimo Capo del giro di droga nei market Andiamo C'è un'armatura Ma non la prendo No, la missione è carina Siamo dei killer E dobbiamo eliminare i nostri obiettivi Dov'è ora? Eccolo Ok, ho fatto fuori per lui Farò dobbiamo eliminare un mafioso Lo posso già vedere da qui Senza prendere la macchina Cerco di farlo fuori Cazzo Il treno proprio ora doveva passare Ok Capo puttane pre Bello, mi piace Questa missione mi sta piacendo Devo essere sincero Cazzo, mi stanno Devo dire che è carino Eliminiamolo Assomiglia un po' alla mia missione I 5 killer Ok, entro in macchina e fai il salto Comunque devo dire che è bella Palle con le gomme spucate È impossibile Già tanto sono riuscito a arrivare dall'altra parte Oddio Cazzo Cazzo, la macchina va dove vuole lei Oddio È molto No, è troppo lontano Ok, la missione è superata Devo dire che mi è piaciuta molto Era da un po' Perché ultimamente Non rigenziavo una missione carina Finalmente una Bella Le altre facciano tutte schifo Va bene Questa mi è piaciuta Devo essere sincero E Per questo video è tutto Al prossimo video Iscrivetevi, commentate E mettete mi piace E guardate anche gli altri miei video Escrivetevi, commentate E guardate anche gli altri miei video E guardate anche gli altri miei video E guardate anche gli altri miei video